L'amore di un papà e di una mamma desiderosi di accogliere la loro chiamata alla santità arriva a compiere gesti che solo Dio può fare, creare e perdonare. Questo fa Dio, ci ricorda il Papa, questo. E continua, sentite che bello, il Papa è concreto. La prima necessità dunque è proprio questa, che il padre sia presente nella famiglia. Come crei? Essendo presente. Che sia vicino alla moglie per condividere tutto, gioie, dolori, fatiche, speranze. Che sia vicino ai figli nella loro crescita. Padre presente sempre. Dire presente non è lo stesso che dire controllore. Sempre il Papa, eh? Perché i padri troppo controllori annullano i figli, non li lasciano crescere. Un buon padre sa attendere e sa perdonare. Attendere e perdonare dal profondo del cuore. Certo, sa anche correggere con fermezza. Non è un padre debole, arrendevole, sentimentale. Il padre che sa correggere senza avvilire è lo stesso che sa proteggere senza risparmiarsi.